In questo video ti spiego come cancellare la cronologia di YouTube. Per cancellare alcuni video dalla cronologia, dall'app di YouTube vai su Raccolta, dal menu che trovi in basso. Ora vai su Cronologia. Ora, sul video che vuoi rimuovere dalla cronologia, tocca su Altro. Infine, tocca su Rimuovi da cronologia visualizzazioni. Per svuotare tutta la cronologia delle visualizzazioni, vai sul tuo profilo toccando la foto in alto a destra. Ora, tocca su Impostazioni. Ora, tocca su Cronologia e privacy. Infine, tocca su Cancella cronologia visualizzazioni e conferma. Per cancellare cronologia delle ricerche, tocca su Cancella cronologia delle ricerche e conferma. Su Desktop vai su Menu in alto a sinistra. Clicca su Cronologia. Ora, clicca su Rimuovi cronologia visualizzazioni, a fianco di un qualsiasi video che vuoi togliere dalla cronologia. Oppure, per cancellare tutta la cronologia, sulla destra puoi selezionare il tipo di cronologia da cancellare. Cronologia visualizzazioni, cronologia ricerche, commenti, community o chat dal vivo. Ora, conferma l'azione cliccando Cancella tutta la cronologia. Grazie per avermi seguito. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al mio canale per ricevere nuovi video tutorial su app, programmi, pc, dispositivi mobili e altro sulla tecnologia. Se hai domande, falle nei commenti qui sotto o scrivimi una mail a comeusare.tutorial.gmail.com Ciao e ci vediamo al prossimo video!